Tante le telefonate moleste che hanno esasperato la vittima della vicenda che da tempo aveva chiesto aiuto alle forze dell'ordine. Questa mattina, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocere Inferiore, gli agenti del locale commissariato agli ordini del vicequestore Luigi Amato hanno notificato il provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti di una stalker di 50 anni discafati. Dalla ricostruzione degli inquirenti, la donna nel corso del 2017 aveva ripetutamente infastidito al cellulare un cinquantenne di Nocere Inferiore, segnalando la questione alla polizia che diede via l'iter del decreto di divieto di avvicinamento. La misura non avrebbe spaventato la donna che fra marzo e maggio avrebbe iniziato a minacciare non soltanto l'uomo ma anche i suoi familiari, comportamento che ha spinto a presentare una nuova denuncia fino alla notifica del provvedimento di oggi. Grazie